Siamo liberati in questo gioco, abbiamo aperito da giocare Allora, comunque dobbiamo fare qualche deathmatch Vai Aspetta un attimo Un punto altro, aspetta, ci mancavo E ho qua un altro Vicino al posto di comando Ora, qui c'è ancora qualcun altro, perché Per il corpo Aspetta, che ci sono questi qua ancora Fuoco? Sì, e se non c'è ancora qua, è più grande Se sono accorti Due marcati Da marcati Quando vuoi A tuo colpo Vai Ci siamo? Non ce l'ho più Vai, vai, spara, spara Il colpo è ultramizzato Vicino, mi ha un inchieduato Oh, dovevo sempre mettere, perché è lontano Spara quello lì, spara quello lì Monte Ala, grande Ala Grazie Allora, non si fa mai catti suoi Oh, dovevo abituarmi a giocare Devo prendere la mano ancora Sul tetto Mi riposiziono Prima è andata Ora sul tetto Ti penso io Adesso La storia No Merda Stiamo facendo schifo Stiamo facendo schifo Su, sul tetto Stiamo facendo quello sul tetto E a terra Ricazzo Perci 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 Più che non ci lo prendiamo No, Ala Perci No, più po' Fermo Fuori dalla nostra zona Segni Tutti Per non spararli Al tuo via Sul versaglio Al tuo via Secondo versaglio Pronto a far fuori Non mi fa malcare tutti Marco Il numero tre Alto corpo Alto via Allora, vediamo Tutti i marcati Non mi pare che il Ancora Fa finissimo che un altro E qui c'è un altro Forse ce n'è quattro Pronto Alto corpo Pronto Fa Tre Due Uno Quindi a fuoco Non devono trovare i porti Quindi Andiamo a camminare Andiamo 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 Il nuovo Che è lui Dai 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 C'è Oggi Dico Dovono seguire Piano Piano Maccab Sì Dai Andiamo Accusate Per Sì Ma Ma licetta è troppo vicino, che cattolo mini in attesa è un altro, testa un attimo non lo vedo, mi servirà per i visori magnetici mettili su, bravo, bravo mettili su e poi metti abbiamo compagnia anzi oggi, il magnifio come si usa il sensore? il sensore magnetico bene mentre l'altro è ciò che usiamo due marcati guarda a spararvi però, al tuo colpo al tuo colpo ok stai caricando tagliamo i visori e se ne metto il macabre e se lo metterò il macabre se lo metterò il macabre, se lo metterò il macabre non puoi uccidermi vogliamo scommettere sì va bene la propria stessa non scoprile che amato perché il multiplayer non vale qui forse va non so non so comunque vorrei vedere anche tutto il che amato quanto amato no, non importa il denaro è stato trasferito ma se non ho quello che voglio posso riprendermi sì, sì, certo te l'ho già detto non fare lo stupido i miei uomini aspettano di scaricare la spedizione vai a terra vediamo allora guardiamo di qualcosa mentre questo qui che ha peggio il pello non siamo ancora che ha peggio il pello allora allora commentatevi io ghost dove sei? vieni qua mi fa sparare no mi fa sparare no mi fa sparare no si è una merda una cosa deve chiamare una hey big fail è scritto del work in di non si vedrà più per adesso tra Rambo no perché ho sbagliato fino a avanti gli ho messo il seguito con l'articolato la doppia posa e non l'ho cambiato mi sa proprio quindi non sarà sempre insomma io ho mancato aspetta una bombom 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 e come non abbiamo fatto senza non per terra e attuali venite curati vieni 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 cazzo vieni stilio vieni 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 bravo bravo mi muovo è mi vedo non si non si non mi vedo non mi vedo non mi vedo non mi vedo aiuto curami 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 arrivo 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 aiuto sono a terra sono a terra che non sono morto ecco perché non si muove palla dimmi sei schifo è la prima partita per me che stai giocando minimo adesso è giocato un campione per quanto la per questa missione io ho agito l'ostacolo trova un riparo finiamoli davanti a noi è stato più a terra davanti a noi è a terra mi muovo è a terra sono l'andate di ragionare a ore 3 vertaglio a terra vertaglio a terra qualcuno mi aiuti ricarico passiamoli al riparo a ore 12 a ore 9 tre ha battuto in movimento in movimento potete una pausa controllate tutto benvenita benvenita signore signore ci arriviamo all'aereo possiamo ottenere il piano di volo dove è stato e forse dove è diretto buona idea buona idea cosa overload hunter recupereremo i registratori dall'aereo ok non per mancare di rispetto capitano ma non mi sembra il caso di fare ricorsa coraggio un po' di vita vorrei dirne più di un po' per questo vado con calma non piace nemmeno a me Peter ma non siamo noi a decidere la tabella di marcia ci siamo aggressivi signori non i protetti andiamo ok ragazzi questo è il video tutto il video per oggi ci ritroviamo qui sempre con Ghost Recon alla prossima missione vedremo di fare anche qualche video di Deathmatch o qualche operazione online buona visione a tutti mi raccomando mettete mi piace e condividete e ciao a tutti